buongiorno a tutti amici il caso di sabrina beccali sta assumendo i contorni del giallo della follia in quanto i protagonisti che fino a poco fa sembravano delle persone quasi normali o per meglio dire si era in presenza di un caso di cronaca giudiziaria diciamo quasi nella norma in cui una persona ahimè veniva uccisa per motivi o economici o di violenza o sessuali qua invece i contorni si stanno facendo contorni di ordinaria o straordinaria follia mi spiego bene è emerso che sabrina beccali non era insomma quella mamma normalmente premurosa ma era una donna con le sue debolezze che stava in un giro di droga e si serviva di alessandro pasini cosiddetto amico con il quale condivideva evidentemente questi questi vizi diciamo condivideva questa cosa della droga ora però non è solo quello c'è la follia che alberga in questo caso in quanto dopo incestanti diciamo interrogatori questo alessandro pasini ha detto sì noi abbiamo passato la sera in casa in casa del fra l'altro della ex sembra casi strana della ex di questo alessandro pasini che si era introdotto in casa della ex della quale aveva le chiavi di questa casa pur essendo ormai ex di questa ragazza che lo aveva fra le altre cose denunciato per violenza e maltrattamenti comunque aveva passata la notte facendosi di droga e poi lui dice io non l'ho uccisa è morto e fino a qua ci potrebbe pure stare che uno assume una overdose e rimane rimane ucciso però la follia si manifesterebbe dopo innanzitutto è poco credibile questo fatto dell'operatore perché c'è una telefonata al 112 di una vicina di casa che sende nelle urla nelle prime ore del mattino delle urla di donna chiama il 112 quindi male non poteva essere perché una donna che sta male chiama la persona che sta a fianco non che grida aiuto aiuto in senso generale quindi poco credibile questo ma poi il problema viene dopo perché questa macchina al volante della quale è stato visto il pasini viene portata in campagna viene data alle fiamme con dentro un cane e gli dice no guardate che dentro la macchina io ho messo il cadavere della della sabrina e l'ho messo là e l'ho fatto bruciare ora due sono i casi o gli esperti che noi abbiamo in italia sono completamente rimbambiti non capiscono niente che prendono il cadavere di un cane per il cadavere di una persona e allora vuol dire che dobbiamo essere molto molto preoccupati ma io non credo che si possa arrivare a considerare questa ipotesi per cui amici miei egli nella follia ha preso un cane un cane che o aveva aveva con sé o ha preso per la strada ha preso un cane e l'ha messo dentro perché nella sua testa voleva dare a intendere che aveva bruciato il corpo e quindi quel poco che si sarebbe ritrovato lui pensava che gli inquirenti riconducessero a sabrina ma poi non si è capito il perché di questa cosa qua visse considerate che lui che cosa avrebbe fatto poi sempre nella follia avrebbe ucciso a sabrina magari sotto l'effetto pure di queste sostanze ma poi che fai da un lato prendi la macchina la vai a bruciare col cane dall'altra parte sabrina l'hai fatta sparire perché non c'è quella casa l'hai fatta sparire chissà l'hai seppellita l'hai buttata da qualche parte in un pozzo chissà dove e fra le altre cose aveva tagliato il tubo del gas della casa sempre di questa ex fidanzata per fare in modo che poi la saturazione di questo gas compostasse lo scoppio dell'appastamento e di tutto il palazzo ovviamente quindi è quasi un tentativo di strage ora a che pro? cioè lui dice alcune ipotizze per cancellare le prove di cosa? cioè per cancellare cosa? più prova di questa cioè nel momento in cui si ritrova la macchina nel momento in cui tutti sanno nel parentato come dire negli amicizie che sabrina frequentava ahimè questo Alessandro Pasini che era considerato anche amico amico di vizio diciamo così allora come poteva lui pensare di non essere sospettato ma poi tu vuoi far saltare in aria la palazzina della tua ex quindi se fossi saltato in aria chi sarebbe stato se non lui? eh bastava fare uno più uno due e poi il fatto che tu non la bruci nella macchina non la bruci nella macchina ma magari la vai prima a buttare non so in un fiume o a seppellire ma per quale scopo? io questo è che veramente sfugge ancora cioè nella follia a volte vediamo che nella follia però ci sta un disegno un disegno criminoso dici io ad esempio vado a nascondere un cadavere perché se non trovano il cadavere allora non mi posso mai accusare di aver ucciso una persona ma nel momento in cui tu fai esplodere un appartamento bruci la macchina di questa ragazza e vai a seppellire o a buttare il corpo da qualche parte con quali speranze minime pensi di fare la franca? ovviamente è la follia che tiene in piedi questa persona una follia aggravata da queste sostanze superficienti perché vedete chi non pausa di queste sostanze e ci sono tanti casi che capitano di cronaca che a un certo momento ci sta un incontro tra due persone succede un qualcosa uno uccide l'altra persona che poi il cadavere scompare ed è difficile poi attribuire le responsabilità qua è una cosa chiarissima che tra l'altro era la conoscenza di tutti coloro che conoscevano Sabrina questa frequentazione quindi ora lui tende a difendersi dicendo non l'ho uccisa, si è sentita male ma se fosse andata anche così bene allora lui avrebbe potuto chiamare i soccorsi e benché ci sarebbero state certamente chiaramente delle sue responsabilità come fornitore di stupefacenti certamente le responsabilità erano ben minori di quello che ha fatto adesso di distruzione, sparizione di cadavere tentata strage per il fatto della mancata esplosione certamente sono capi di imputazione che vanno sicuramente all'esgastolo al 100% invece avesse chiamato subito i soccorsi magari sarebbe morto ugualmente Sabrina però lui se la sarebbe cavata insomma con pochi anni invece questo era è una persona, un criminale un poco di buono perché lo era anche prima denunciato più volte da varie donne tra cui la sua ex per violenze poi dispiace dirla anche per la vittima la vittima aveva queste frequentazioni di basso profilo altri due galeotti si erano accoltellati fra di loro circa un mese primo come già vi ho detto uno è tornato in carcere uno sta in ospedale e magari andrà in carcere anche lui quando uscirà voglio dire se tu pazzi con questa gentaglia prima o poi succede qualcosa di di male questo caso quindi non è chiuso io vi rimando ai prossimi aggiornamenti perché adesso vabbè si deve trovare il corpo o come mai si si troverà però non torna questo fatto del cane il cane che è stato messo per far finta che fosse che fosse la donna come se poi si potesse mai pensare che i tecnici prendono un cane per un corpo umano ma poi per quale scopo far finta a questo quando poi tu comunque le hai uccise e le hai getti d'altrove cioè non si capisce il nesso il nesso una mente obnubilata come si dice vi rimando amici miei al prossimo video ai prossimi aggiornamenti di questo caso ciao a tutti